Come è andata Walter? Bene, bene, mi è piaciuto tutto, tutto il corso, sia la prima parte che la seconda. La parte che mi è top preferita è la parte di teaching, che è quella che mi serviva di più. Mi ha sorpreso tutto, perché comunque non mi aspettavo un insegnante così bravo, come spiegava soprattutto la parte del teaching e anche le tecniche, che l'ha spiegato molto molto bene. Anche l'esame tecnico finale è stata veramente dura, sono state ore veramente intense, molto pesanti, però è una bella esperienza da fare. Se ti dovessi chiedere che cosa ti porti a casa, l'unica cosa è che tu dici ok, questa è la più importante, per questa avrei smosso mari e monti. Qual è? La sicurezza, la sicurezza, mi porterei a casa, soprattutto la sicurezza. Grazie mille Walter. Grazie a te. Grazie a te.